Ecco a voi il trader del film It's All About Love. Non abbiamo mai perso le speranze e siamo consapevoli che le cose avvengono nel momento opportuno. Nel 2018 abbiamo inseguito un grande sogno. Tre ragazzi si mettono in testa di girare un lungometraggio tra Italia e Tanzania ed in un mese e mezzo il girato era concluso. Abbiamo incontrato un sacco di difficoltà, ma grazie ad una fiducia smoterata stiamo riusciti nell'impresa. Eravamo vicini a terminarlo a fine 2019, poi è arrivata la pandemia ed ha cambiato le carte in tavola. Adesso usciamo allo scoperto per iniziare questo 2021 nel miglior modo possibile, alimentando i nostri sogni. Vogliamo dimostrare che l'amicizia tra culture diverse esiste e che i confini sono solamente nelle nostre teste. Grazie alla regia di Mirko Petrini e alla fotografia di Simone Boccalatte abbiamo escenato una parte della mia rivoluzione interiore che si intreccia con la storia di Filippo, un guerriero Masai che incredibilmente vedrà realizzarsi i propri sogni. Un mix tra scene ricostruite ed altre prese direttamente dalla vita reale, nel momento esatto in cui sono accadute, come quando incontro Giorgina, la figlia di Filippo, per la prima volta. Grazie a chi sosterrà questo progetto potremo dimostrare che i pensieri possono prendere forma e che i sogni sono realizzabili, anche quando le finanze sono praticamente a rivestimento. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, in particolare il Villaggio della Speranza e la comunità Masai del Puro che ci hanno aperto le porte di grazia.